Caos vigili, stroncatura netta dell'opposizione ma scricchiola anche la maggioranza. L'arrivo a como part time del comandante di Monza, Alessandro Casale, che a marzo giudicò non idoneo il comandante di Varese, fa discutere. A sollevare dubbi e perplessità è che la procedura applicata a Casale è quella sempre negata a Vincenzo Aiello, da poco alla guida del corpo a Cantù. Trattandosi di un incarico fiduciario, dice Marco Butti, consigliere comunale del gruppo misto, la stessa modalità si sarebbe potuta usare per valorizzare una risorsa interna, perché a suo tempo non si agito in questa direzione, si chiede. La vergognosa approssimazione con cui la giunta di Como sta gestendo il caso della polizia locale sta creando danni enormi e sta distruggendo il corpo, ha detto oggi il capogruppo di Forza Italia Sergio Gaddi. Tra l'altro viene scelto un comandante part time da Monza, è una situazione intollerabile, l'assessore Introzzi, conclude Gaddi, dovrebbe dimettersi immediatamente. Il capogruppo della Lega, Giampiero Aiani, arriva a definire la giunta di sinistra capace di calpestare ogni criterio di democrazia e trasparenza e di danneggiare ancora la polizia locale con una scelta senza senso. Infine Francesco Scopelliti, nuovo centrodestra, parla di scelta incredibile e vergognosa e per di più inutile, visto che l'incarico sarà soltanto part time. Ma ad attaccare l'operato della giunta di Palazzo Cernezzi c'è anche un esponente della maggioranza. Il sindaco non vuole ammettere di aver sbagliato a non mandare via l'assessore Introzzi, commenta il consigliere comunale del Partito Democratico Gioacchino Favara. Anche il PD deve prendere posizione e non dare più tempo al sindaco, il rimpasto è un atto necessario. Secondo noi la procedura è del tutto trasparente e legittima, si difende l'assessore al personale Gisella Introzzi, inoltre Casale si occuperà anche del comando di Como per un tempo limitato, fino cioè allo svolgimento del concorso pubblico che individuerà il nuovo comandante. Insomma, conclude, non vedo nulla di male in quello che abbiamo deciso.